Un nuovo punto di aggregazione sociale per San Giorgio Ioni con il segno del padel e con la firma di Thomas Fabiano e dei suoi fratelli Roberto e Valentina. Taglio del nastro per il Fab Center Padel, la nuova scommessa della tenista Thomas Fabiano, già numero 70 al mondo, della ranking mondiale del tennis, ritiratosi da poco dall'attività agonistica. Assieme alla sua famiglia il campione san giorgese è ideato nella zona industriale il nuovo centro sportivo, che si assende per 4.000 metri quadri con 4 campi di padel, una palestra, una zona ludica per bambini e un punto ristoro. I campi di ultima generazione in erba testurizzata sono stati la teatro dell'inaugurazione condotta da Mimmonesca alla presenza del sindaco di San Giorgio Cosimo Fabiano, del deputato dei fratelli d'Italia Dario Iaia e del presidente della Fedartenis e Padel Puglia Francesco Mantegazza, una serata di applausi ed emozioni. È una struttura che abbiamo voluto con tutte le nostre forze da un po' di anni e vogliamo dare entusiasmo ad un territorio che mi ha dato tanto negli anni e vogliamo ricambiare con una struttura all'avanguardia, con entusiasmo e dinamismo. È una soddisfazione per una comunità come quella di San Giorgio Cionico che con lo sport ha sempre avuto un rapporto straordinariamente privilegiato. Questa struttura aperta da Thomas Fabiano e la famiglia che vive nel tennis da quando erano piccoli, dà una maggiore affidabilità per quanto riguarda l'attenzione che verrà rivolta all'aspetto tecnico e all'aspetto agonistico. Grazie a tutti.